Il comitato sarà appunto il comitato promotore che vede la regione al suo fianco per valorizzare quello che è un patrimonio che non è solo architettonico e culturale ma è anche ambientale. Quindi ci saranno le varie deleghe da parte degli assessori competenti per la cultura, l'architettura e anche l'ambiente. Un territorio che deve essere valorizzato, abbiamo visto che appunto l'entrata delle Dolomiti nell'ambito del patrimonio dell'UNESCO diventa elemento sostanziale che è la tutela del territorio e la sua valorizzazione. Quindi creare questo comitato fa riconoscere che il Veneto ha un patrimonio sicuramente enorme sotto l'aspetto della capacità anche diattrattiva di chi arriva dal resto del mondo per vederlo diventa fondamentale. Quindi un apporto che la regione vuol dare per concretizzare un organo che diventa sicuramente elemento soprattutto di certificazione della qualità del nostro Veneto. È un lavoro che sicuramente parte e parte ma che avrà bisogno appunto di massima collaborazione di tutte le parti della società che vogliono appunto contribuire a questo. Quindi dal mondo dell'imprenditoria, dal mondo della cultura, dal mondo appunto del territorio. E sarà questo il lavoro per unire tutte le forze per garantire il risultato massimo per il nostro Veneto.